presentiamo la sesta serie il 4 è massimo detto in cinque sia scoglio miglio mi saia si avventurelli in sette sofia gugiaro in ottene becca al lago grazie intanto lorenzo zancanella lo sport per ritirare il suo tesserino qui in postazione lorenzo zancanella si raggiunge la settima serie alessia con i gatti uno 16 76 dalla porta corsia